più o meno no non mi riesce a alzarmi c'è la neve fresca peccato che non ho la 7 super stabilizzata c'è un'altra parte c'è un'altra parte bellissimo cazzo, spettacolare bellissimo cazzo, spettacolare bellissimo cazzo, spettacolare bellissimo 3, 2, 1, drop bellissimo cazzo bellissimo cazzo bellissimo cazzo bellissimo cazzo bellissimo cazzo ed è con queste immagini che concludo il video di Bardonecchia e non mi resta altro che augurarvi buone feste, un buon Natale, un buon Capodanno e soprattutto cercate di non mangiare troppo ragazzi ciao alla prossimo